buongiorno ragazzi bentornati sul mio canale zoo pappagalli innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che mi seguono questo è la coppia di inseparabile di cui vi parlavo la femmina stava cavando due uova che dopo due settimane no anzi scusatemi dopo tre settimane di cova ho verificato se era nato qualcosa ma sfortunatamente le uova non andavano bene ho dovuto tirare fuori come si dice ho dovuto tirare fuori le uova perché se no la femmina continuava a covare inutilmente e rimaneva sempre nel nido e di fatti si è strappato tutte le piume sotto per fuori di covare le uova e niente alla fine ho dovuto tirare fuori le uova e alla fine eccola qui e fuori dal nido finalmente e non vedevo loro che usciva perché rimanere dentro insomma senza niente non ha più senso ormai speriamo in una nuova covata niente per adesso è tutto la femmina è quella lì per chi non la riconosce è un altro video o per un altro aggiornamento ciao alla prossima ciao